Rian Gosling Rian Gosling Sex Symbol, tutti i motivi per cui piace alle donne Considerato uno degli attori più richiesti del momento, soprattutto dopo la sua partecipazione come protagonista maschile nel film La La Land, Rian Gosling è a tutti gli effetti uno dei sex symbol più sognati al mondo Sposato con la splendida Eva Mendes, l'attore sembra possedere tutti i segreti per conquistare le donne, ecco perché Rian Gosling è la bacchetta magica della seduzione. Capelli biondi, sguardo glaciale e sorriso da star, Rian Gosling possiede il fascino e la grazia che tutti gli uomini vorrebbero avere Dopo aver conquistato la sua splendida moglie, la collega Eva Mendes, l'attore è stato considerato a livello internazionale come il fidanzato ideale, e sono molte le riviste di gossip che hanno sposato queste affermazioni Educato e spiritoso, Gosling è un fervente femminista, sempre pronto a riconoscere il grande valore del mondo femminile, questa sua caratteristica lo ha reso uno degli uomini più affascinanti ed interessanti di Hollywood Non solo bello, ma anche sensibile e attento a ciò che lo circonda, sempre pronto ad osannare la moglie e le splendide figlie, Esmeralda e Amada, lui è il vero uomo che ama le donne La bacchetta magica della seduzione lo ha portato a diventare un'autentica icona, riconosciuto da tutti come un uomo d'altri tempi, capace di manifestare le proprie emozioni senza mai vergognarsene Il ruolo del protagonista di La La Land ha mostrato un'altra sua sfaccettatura, Ryan Gosling infatti canta e balla, sfoggiando tutte le sue qualità estetiche, artistiche e non solo Tra cinema e famiglia, la vita di una vera star La vita di Ryan Gosling è quella di un padre di famiglia, innamorato delle sue figlie e della moglie, la loro casa è caotica e armonica allo stesso tempo, a testimonianza dell'amore che scorre tra ogni membro della famiglia Orgoglioso di Eva Mendes che, oltre ad essere madre e attrice e ha aperto una sua linea di abbigliamento, la star di Hollywood ha più volte ringraziato la sua compagna di vita per essergli sempre accanto, pronta a sostenerlo in ogni nuova esperienza Gosling, famoso per le sue interpretazioni impeccabili e sempre convincenti, sta vivendo un momento molto positivo della sua carriera, dimostrando di essere a tutti gli effetti uno dei volti più noti di Hollywood Instancabile e pieno di energie, l'attore ha anche un ristorante marocchino, aperto a Los Angeles, a testimonianza del suo amore per la cucina internazionale, in particolare per quella cubana cucinata in modo unico dalla madre della Mendes Un uomo dai valori forti, capace di accogliere la propria parte femminile, valorizzandola, Ryan Gosling è un esempio contro il mondo becero e maschilista e non perde occasione per ribadire la sua stima nei confronti del genere femminile La storia d'amore con Eva Mendes procede a gonfie vele e i due sembrano più innamorati che mai, insieme alle loro splendide bambine, le donne di tutto il mondo purtroppo dovranno rassegnarsi all'evidenza Il cuore dell'attore è già stato conquistato anni fa e tutte sono certi che questa favola sarà destinata a durare per sempre Il cuore dell'attore è già stato conquistato anni fa e tutte sono certi che questa favola sia stato conquistato anni fa e tutte sono certi che questa favola